E' nato a Manfredonia da genitori di Marcianise ma il suo nome è legato all'invenzione del cloud. Il professore Agostino Sibillo è stato ospitato nella sala caduti di Nasseria del Consiglio regionale della Campania per parlare di internet e dei suoi molteplici utilizzi per far comprendere all'ente regionale quali possano essere i provvedimenti in grado di contrastare la fuga di cervelli. Deve esserci impegno, deve esserci tanto impegno in quello che si fa, bisogna avere ancora la forza e la voglia di sognare perché nulla è perduto e bisogna metterci tanta passione. Oggi siamo fortunati perché abbiamo dei sistemi che ci consentono pur restando a casa in realtà di internazionalizzarci quindi di andare in giro per il mondo e bisogna però saperli usare perché per fortuna o per purtroppo internet non è soltanto social network. Ad ospitare l'evento la prima commissione con delega ai rapporti internazionali presieduta dal consigliere Alfonso Piscitelli. La gioia che l'istituzione incontra un campano che vive in America e che ha fatto la fortuna in America dal punto di vista delle sue progette, parlando di innovazione pure. Il classico esempio di come elementi italiane vanno fuori. Noi ci auguriamo che questa tendenza inverta la rutta perché le nostre intelligenze devono poter operare in Italia. Nella giornata di ieri un convegno ha celebrato i 40 anni dei consultori familiari. Studi, proposte ed una mostra fotografica per ricordare l'importanza di questi centri. Ascoltiamo il presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, e Lucia Patalano, curatrice della mostra. I 40 anni sono tanti e io credo che vanno rilanciati i consultori familiari perché sono state strutture al servizio di tante donne e bambini, servizi gratuiti, di prevenzione, di maternità che vanno seguite, però in questi anni abbiamo assistito a un depauperamento dei consultori familiari. Questi consultori che io ho fotografato nel 2007 sono quelli delle aree più sofferenti di Napoli, quelle storicamente sofferenti, cioè a dire Secondigliano, Miano, Fuorigrotta e Sanità. Giornata di audizioni per la Commissione Speciale Terra dei Fuochi. Al centro delle discussioni la video sorveglianza, come afferma il presidente Giampiero Zinzi. Evidentemente nei territori i comuni ancora non sono dotati della video sorveglianza prevista dal bando di due anni fa e noi siamo qui a raccogliere le istanze che provengono dai comitati e dalle amministrazioni locali proprio per comprendere i motivi di questi ritardi e risolvere il problema affinché i nostri territori siano sorvegliati come è giusto che siano. Grazie a tutti.